Rita Buccarini, 48 anni di Urbania, sposata con due figli piccoli e morta stamattina intorno alle 8 e 15, schiacciata da un albero caduto in seguito a forti raffiche di vento a Urbino. La donna era appena scesa dall'autobus e si stava recando al lavoro in via Cappuccini verso il collegio universitario La Vela. I soccorsi hanno cercato di rianimarla sul posto, ma è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Sempre nel territorio feltresco, altre persone si sono rivolte al pronto soccorso come un uomo di 69 anni che ha riportato un trauma al torace e ad una spalla provocato da un cipresso caduto gli addosso, inoltre un volontario della protezione civile che non è in gravi condizioni. Ma il forte vento, con raffiche fino a 90 km orari, ha provocato danni in tutta la provincia di Pesero e Urbino. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, del personale della provincia e delle ditte incaricate impegnate fin dalle prime ore del mattino per frane, smottamenti e per la rimozione di piante e rami spezzati. Come è successo in via Sessa Strada a Bellocchi di Fano, nell'incrocio tra Viale 12 Settembre e Via Nolfi e in altre strade che invece sono state chiuse al traffico, come nel Colle Ardizio e nella strada provinciale 26 a Monbaroccio. Qui un altro grosso albero si è abbattuto su una casa ma per fortuna non risultano feriti. All'interno di Pesero Studi invece è caduto su un'auto parcheggiata. In Viale Cairoli e a Lito di Fano l'impalcatura di un cantiere solo grazie alla presenza di piante non è finita a terra. Oltre ad aver divelto grondai e sradicato diversi pali dell'elettricità, abbattuto cartelloni e totem pubblicitari, la furia del vento ha fatto volare via alcune parti in lamiera della copertura del tetto del Tribunale di Pesero. Per questo sono state chiusi al traffico e ai pedoni le strade circostanti. I pompieri non sono riusciti a mettere in sicurezza la struttura e quindi hanno dovuto transennare l'intera area. Il fiume Misa invece non ha fatto dormire sogni tranquilli a Senigallia, dove è stata disposta la chiusura a titolo precauzionale delle scuole e di tutti gli esercizi commerciali nel centro storico ed è stato annullato il mercato settimanale. I tecnici del comune e della provincia, gli uomini della protezione civile hanno costantemente monitorato i corsi d'acqua, tra questi il fiume Metauro, il Foglia e il rio Crinaccio. Invece nella notte il torrente Arzilla è esondato nuovamente con l'acqua che ha invaso i terreni circostanti. Qui siamo nella strada comunale della Selva, strada che collega Centinarola e Fenile. Guardate fino a che punto è arrivata l'acqua. Preoccupati anche i residenti di Sassonia, la zona già messa in ginocchio il mese scorso è stata martoriata dalle onde. In alcuni punti il mare è arrivato in strada rendendola intransitabile. Invece in via Le Ruggeri, che rimane chiuso al traffico, si sono riversati nuovamente cumuli di ghiaia sulla carreggiata. Siamo a livelli dell'altra volta, le pompe vanno di continuo, speriamo che non vada via l'energia elettrica, se no siamo nei guai un'altra volta. E stanotte è in tensione perché dico a sta a vedere che va a finire come un'altra volta. Ha messo in sicurezza la bicicletta in alto, sui piani alti, la bicicletta, altre cose così, un frigorifero, ma tutto non potevo fare, quindi dopo stamattina mi sono stato molto presto, ancora era tutto regolare. Però è insopportabile questa gestazione, è insopportabile. Un mese fa, l'ultima mareggiata, nel bar ho avuto disastri grossi, 7-8 mila euro di danni. Il parcheggio, l'anno scorso abbiamo speso 2 mila euro per sistemarlo e ogni anno è la stessa cosa. Cioè ci siamo stancati di questa situazione, sinceramente. Grave situazioni anche nella passeggiata del lungomare. Qui proprio nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per spostare i pali della luce più a monte, ma secondo alcuni queste sono operazioni che se fatte adesso risultano inutili. Visto che le forti piogge e la furia del vento vanificano i lavori eseguiti. Nel primo pomeriggio, poi in via degli schiavoni, sono intervenuti volontari del CB Club Mattei. Che tipo di interventi avete eseguito? Più che altro abbiamo posizionato dei sacchetti all'ingresso degli scantinati. Sì, un paio di interventi all'incirca una cinquantina di sacchetti. Siamo partiti verso mezzogiorno 10 e abbiamo terminato alle 17. Un lavoro di prevenzione dunque? Sì, un lavoro di prevenzione in attesa di quello che potrebbe succedere stanotte.